Una legge contro il linguaggio d'odio. Cave, approvato il DDL per le pietre ornamentali. Crisi del grosso di Nichelino, 108 posti a rischio, lavoratori, auditi in Consiglio regionale. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. Tutelare le vittime dei discorsi d'odio diffusi online. E l'obiettivo della legge è la prima in Italia contro l'Ace Speech, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Una legge per prevenire e contrastare i fenomeni di Ace Speech diffusi attraverso le piattaforme digitali. Il provvedimento, presentato dal primo firmatario Diego Sarno, Partito Democratico, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale. Ci sono persone che hanno subito un odio importante e pesante all'interno dei social network. Purtroppo alcune persone hanno deciso di togliersi la vita per quell'odio e per quella violenza che hanno subito sempre a livello digitale. Il testo, costruito con l'aiuto dell'Università degli Studi di Torino e di alcune associazioni, prevede tra gli interventi la costituzione di centri specializzati per dare supporto alle vittime, la messa alla prova degli odiatori in accordo con le forze dell'ordine, il sostegno a progetti educativi già in età scolare. Per l'attuazione di queste misure saranno messi a disposizione 100.000 euro l'anno per il 2024 e il 2025. Sappiamo quanto peso e quanto possono essere dure le parole. Non sempre dall'altra parte ci sono persone in grado di difendersi o di reggere il peso di un'offesa, per cui la Regione ha voluta intervenire in questo senso. Cave, approvata la legge per le pietre ornamentali. Con la nuova norma sarà possibile elaborare il piano attività estrattive a stralci. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 25 voti favorevoli e 15 contrari, il DDL che modifica la legge 23 del 2016 in materia di attività estrattiva. La nuova norma prevede che l'elaborazione del PRAE, il piano regionale delle attività estrattive, possa avvenire per stralci successivi relativi ai tre specifici comparti in cui il piano è suddiviso. Comparto 1, aggregati per le costruzioni e le infrastrutture. Comparto 2, pietre ornamentali. Comparto 3, materiali industriali. Sul primo e terzo comparto, ha sottolineato in aula l'assessore Tronzano illustrando il DDL, l'iter è stato concluso, mentre per il secondo, quello dedicato alle pietre ornamentali, è necessario svolgere ulteriori approfondimenti. Dare certezze alle imprese, dare certezze agli occupati, a chi lavora nel settore estrattivo, che è un settore che è molto importante, fa 3 miliardi di valore alla produzione, oltre 200 mila occupati anche nell'indotto. Abbiamo ritenuto opportuno, per tutelare un settore importante, di fare questo stralcio e di ragionare con calma, con serenità, salvaguardando l'ambiente, ma anche salvaguardando soprattutto i posti di lavoro e attività, che sono un valore aggiunto per il Piemonte intero, i distretti rimasti sono di fatto Bagnolo, Luserna e il Verbano Cusiossolo. Critiche le opposizioni. Tiene in considerazione solamente l'interesse dell'impresa, che è legittimo, ma tende a mettere in sordina gli aspetti più ambientali e paesaggistici. Rendere più semplice la contabilità dei comuni sotto i 5 mila abitanti è l'obiettivo della proposta di legge al Parlamento per la modifica e integrazione della legge sul pareggio di bilancio e del testo unico degli enti locali, approvata a maggioranza dall'Aula. Sono note le difficoltà e le carenze di personale dei piccoli comuni, ha spiegato il primo firmatario, Davide Nicco, Fratelli d'Italia. Per questo vogliamo consentire a queste realtà di adottare un modello semplificato che preveda di tenere la contabilità finanziaria di sola cassa e non quella di competenza. Ora il testo passa al vaglio delle Camere a cui spetta l'approvazione definitiva. Via Libera al disegno di legge mirato a coinvolgere attivamente i cittadini nella gestione dei beni comuni. Con 24 sì e 13 non partecipanti al voto, Via Libera, maggioranza da parte dell'Aula al disegno di legge sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per promuovere la sussidiarietà presentato dall'assessore Chiara Caucino. Obiettivo del provvedimento è la creazione di un modello di welfare basato sulla collaborazione civica tra cittadini e denti locali per svolgere attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione amministrativa. Vogliamo fare in modo che i cittadini sia in forma singola che in forma associata realizzino dei patti di collaborazione con gli enti pubblici quindi con la regione, con i comuni, con le province al fine di prendere in gestione, di poter quasi prendersi cura di quei beni comuni che l'ente pubblico non è in grado di valorizzare. Quindi è un modello per cercare di riattivare in modo virtuoso la cittadinanza attiva. Con 34 voti il Consiglio regionale ha designato Chiara Cerrato come consigliera regionale di parità effettiva il cui compito è quello di rilevare le situazioni di squilibrio di genere per svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni. Chiara Cerrato è docente di materie giuridiche ed economiche ad Asti e consigliera di parità nella sua provincia. Ricevuta a Palazzo Lascari su una delegazione di lavoratori dell'azienda Del Grosso di Nichelino. Sono 108 i posti di lavoro a rischio. Una delegazione dei sindacati e dei lavoratori della Del Grosso di Nichelino azienda specializzata nella produzione di filtri per auto è stata ricevuta in consiglio regionale dal presidente Stefano Allasi e dall'assessore al lavoro Elena Chiorino. Presenti anche alcuni consiglieri. Secondo quanto riportato dai sindacati l'azienda avrebbe inviato formale comunicazione ai clienti rispetto alla decisione di portare i libri contabili in tribunale e dichiarare il fallimento per crisi di liquidità. Venerdì sono scaduti i contratti di solidarietà per 108 lavoratori che da mesi non ricevono regolarmente lo stipendio e che in caso di liquidazione giudiziale non avrebbero diritto agli ammortizzatori sociali. L'assessore Chiorino ha detto che nei prossimi giorni la regione avvierà un'interlocuzione sia con la proprietà sia con la NIUCO che aveva manifestato interesse a rilevare l'azienda per capire se ci sono le condizioni per recuperare la produzione e salvaguardare i posti di lavoro. L'aula ha ricordato Carmen Fabris consigliera regionale nella prima e seconda legislatura scomparsa l'11 novembre 2021 all'età di 92 anni. Ricordato anche Sante Baiardi assessore e consigliere regionale nella seconda e terza legislatura mancato il 13 ottobre 2023 a 97 anni. In memoria dei due ex consiglieri l'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. Stati generali della cultura piemontese al circolo dei lettori di Torino una due giorni di eventi organizzati nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni del drapò. Un premio alla carriera per aver valorizzato il Piemonte nel mondo con professionalità e passione attraverso la cultura della danza con stima e riconoscenza e la motivazione incisa sulla targa consegnata a nome del Consiglio regionale dal presidente Stefano Allasi e dalla consigliera Sara Zambaia a Susanna Egri, danzatrice, coreografa e maestra di danza. La cerimonia si è svolta al culmine delle due giornate dedicate agli stati generali della cultura piemontese organizzate dal Consiglio al Circolo dei lettori di Torino nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni del drapò. In questi due giorni abbiamo parlato molto di cultura, di storia, di contemporaneità di quello che è oggi il Piemonte e di quello che verrà. È meraviglioso, veramente io sono intanto profondamente onorata e poi commossa, commossa perché non me l'aspettavo in questo momento ed è una cosa veramente prestigiosa che mi tocca moltissimo. Tradizioni, radici, lingua e storia questi i temi al centro delle due giornate degli stati generali della cultura piemontese tra le altre iniziative organizzate al Circolo dei lettori un incontro sulla lingua e sulla cultura piemontese che ha coinvolto numerosi storici, giornalisti ed esperti. Si parla di lingua piemontese, della storia, delle nostre tradizioni in questo anniversario dei 600 anni del drapò ma anche delle minoranze linguistiche ma anche dei piemontesi che sono andati in Argentina e anche di alcuni personaggi curiosi che hanno portato i valori piemontesi nel mondo. Un impegno pluridisciplinare sul Piemonte per valorizzarne la cultura, l'identità in modo giusto e di contenuto e per ovviamente la lingua e la letteratura piemontese. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti!